Icaro Tg Andiamo a vedere quali sono le notizie principali di questa giornata Arrivati a questo punto vi faccio una panoramica delle prime tre in home page Apriamo con una notizia arrivata in redazione da poco Trasversale Marecchia danneggiata una tubatura del gas Quindi traffico bloccato per un'ora E poi ancora il Vescovo ha provveduto da avvicendamenti di sacerdoti Nelle parrocchie di Rimini a partire da gennaio E sentiremo quali sono questi avvicendamenti E poi ancora parliamo di trasporto Germania più vicina da aprile I nuovi treni railjet da Monaco Le tappe Rimini, Riccione e Cattolica Andiamo con ordine quindi Questo traffico bloccato questa mattina Intorno alle 11 durante i lavori sulla pista ciclabile Lungo la Traversale Marecchia Subito dopo il ponte in direzione Sant'Arcangelo È stata danneggiata una condotta del gas di media pressione La società Adrigas è intervenuta immediatamente per arginare la dispersione Insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco Per questione di sicurezza è stato deciso di bloccare il traffico per circa un'ora I tecnici sono a lavoro Per il ripristino della condotta E entro le 14 sarà riaperta La fornitura alle 7 utenze Tutte abitazioni che sono state bloccate Proprio per perfezionare l'intervento Comunque al momento quindi vi segnaliamo questa situazione Adesso andiamo alla notizia degli avvicendamenti decisi dal Vescovo Avvicendamenti di sacerdoti nelle parrocchie di Rimini Il Vescovo quindi Monsignor Nicolo Anselmi Ha provveduto ad avvicendamenti dei sacerdoti Nelle comunità parrocchiali della Diocesi Sentiamo A Cattolica Don Matteo Donati Lascerà l'incarico di parroco a San Benedetto Per vivere un anno di esperienza nella comunità Piccola Famiglia dell'Assunta a Montetauro Offrendo la sua collaborazione nella zona pastorale di Coriano Don Eugenio Savino Già parroco di San Raffaele a Rimini Sostituirà Don Matteo Donati a San Benedetto di Cattolica E sarà amministratore parrocchiale di Santa Antonio da Padova E di Santa Maria di Nazaretta Montalbano In collaborazione pastorale con Don Andrea Scogna Miglio E Don Eugenio Facondini Don Giovanni Vaccarini Già parroco di Miramare E' nominato parroco della parrocchia di San Raffaele Don Maurizio Fabri Già amministratore parrocchiale a Bella Riva E' nominato parroco al Sacro Cuore di Miramare Mantenendo il suo incarico di vicario generale della Diocesi Sarà aiutato da Don Wieslaw Gutowski Don Mathieu Malik Fayet E' nominato parroco al Cuore Immacolato di Maria A Bella Riva Don Danilo Manduchi Parroco a San Martino in Riparotta Ed economo diocesano E' nominato anche amministratore parrocchiale della parrocchia di San Giovanni In Galilea Coadiuvato dal diacono Massimo Colonna Germania più vicina da aprile ai nuovi treni railjet da Monaco Dal 17 aprile partirà il collegamento giornaliero ferroviario fra Monaco di Baviera e la riviera romagnola di ferrovie tedesche Debe e austriache Obebe La prima novità è che nel 2025 i treni proseguiranno fino a Riccione Cattolica mantenendo le tappe di Bologna, Cesena e Rimini Il collegamento proseguirà fino al 6 ottobre andando a coprire le vacanze autunnali dei bavaresi I convogli utilizzati saranno i Railjet New Generation realizzati da Siemens con connessione wifi a bordo Una capacità di 532 posti e una velocità massima di 230 km all'ora Ovviamente ci sono le dichiarazioni di Corsini, assessore al turismo della regione Emilia Romagna Che parla di queste importanti novità in termini di servizio E anche di Emanuele Burioni, direttore di APT Servizi Emilia Romagna Oggi, lo sappiamo, è la giornata dedicata alla violenza contro le donne La giornata contro sull'eliminazione per la violenza sulle donne che si celebra proprio il 25 novembre E anche quest'anno a Rimini è tornata l'iniziativa È per te La tradizionale marcia proprio contro la violenza di genere In Piazza Cavour, punto d'inizio della camminata, c'era anche una famiglia distrutta da un femminicidio I figli di Angela Vitabile uccise a coltellate da Raffaele Foglia Manzillo Suo marito e il loro padre nell'abitazione di via Portogallo a Rimini La sera del 22 aprile del 2022 L'assassino è stato assolto dalla corte d'assise di Rimini per vizio totale di mente E si trova attualmente in una REMS Che è una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza Da quella sera la loro vita è cambiata per sempre Perché i tre fratelli oggi lottano ogni giorno per andare avanti Però per chi resta davvero dopo una violenza come questa non è facile E allora noi sabato pomeriggio abbiamo incontrato e intervistato Anna, la sorella maggiore Sentiamo La violenza è una cosa tremenda che colpisce un'intera famiglia E soprattutto chi la subisce Mia mamma è stata uccisa in modo violentissimo davanti agli occhi dei miei figli E noi siamo dei sopravvissuti a questa tragedia E da quel giorno non viviamo più E la violenza deve fare basta Basta perché le donne devono essere libere di fare le loro scelte E libere di vivere Assolutamente Basta, basta, basta E noi siamo qui oggi sempre per la mia mamma e per tutte le donne A combattere, a dire basta Ma un basta enorme Lei era una donna forte, fortissima E penso che questa forza ce la sta trasmettendo da lassù Per andare avanti E essere qui ancora oggi a combattere E voglio dire a tante donne Andate via Trovate quella forza che mia mamma non è riuscita Ad andare via da questi uomini violenti Che vi tengono lì perché non siamo di nessuno Noi siamo noi Noi donne E la nostra vita è importante Non possiamo regalarla a questi uomini E decidere loro quando terminarla No Mia mamma era una donna stupenda E noi manca tantissimo Com'è la vita dopo la violenza per chi resta? Questa è una domanda molto molto dura La vita dopo la violenza è bruttissima Perché noi ci portiamo dietro tante cose E andare avanti nella vita Dopo aver subito una tragedia così tanta grande Tanto, tanto grande E non è più un vivere Noi siamo delle persone che sono costrette a stare in piedi Per forza E andare avanti Ma noi abbiamo smesso di vivere quella notte stessa In cui ci hanno tolto nostra madre In quella notte in cui ci ha tolto nostra madre Perché ce l'ha tolta lui Noi avevamo un mostro in casa E non ce ne rendavamo conto E questa è la testimonianza di questa donna Di questa famiglia Che è stata distrutta proprio dal femminicidio Stiamo parlando di orfani di femminicidio La loro situazione è davvero drammatica E quindi la camminata è partita da Piazza Cavour Per poi percorrere il centro storico C'erano davvero tante persone Fino poi all'accensione delle luminarie natalizie Quest'anno la frase di accompagnamento Scelta per la camminata contro la violenza È una frase di Confucio Piuttosto che temere l'oscurità È meglio accendere una piccola luce Sentiamo le voci Bisogna esserci Perché è una strage quotidiana Ci dicono che il patriarcato non esiste più E che cos'è allora? Ce lo dicono loro che cos'è Se non è il patriarcato Se non è questa cultura Che ci vuole sottomesse Silenziose In cucina come ha detto un sindaco A lavare i piatti Non bastano come ragioni per essere qui Ma dicagli anche troppi Che noi uomini dovremmo essere i primi A dare il buon esempio Visto che siamo noi il problema principale E quindi incominciare a rompere Questa vecchia cultura che c'è Che purtroppo è ben radicata in Italia E non solo Quindi se il nostro buon esempio Può essere utile Ci proviamo La cittadinanza di Rimini Ma anche degli altri paesi limitrofi Arriva tanta E chiede di fermare Di fermare tutto questo Purtroppo bisognerà ancora fare tanto Perché la cultura del patriarcato È ancora impregnata Ovunque Ovunque Nelle famiglie Nelle pubbliche amministrazioni Anche nella giustizia purtroppo La parte maschile del mondo Fa solo guerre Guerre contro di noi E guerre contro l'umanità Basta Siamo qua per questo Rimini Autismo Celebra E ha proposto Al palatenda del Parco Pertini A Rivazzurra Un pranzo Proprio per celebrare Lo vedete anche dal nostro sito I vent'anni E quindi è tornato Il pranzo sociale Vent'anni di impegno Nel supporto alle famiglie Con persone autistiche Particolarità Dell'evento Il servizio Che è stato affidato Agli amministratori locali Vediamo E' un pranzo storico Dell'associazione Rimini Autismo Era stato interrotto Prima del Del covid E ripreso quest'anno In occasione Dei vent'anni Dell'associazione Per noi è importante Questo pranzo Perché innanzitutto E' un momento Per stare insieme Con tutte le nostre famiglie Con i nostri ragazzi E' un momento In cui gli amministratori Vengono a servire Ai nostri tavoli In segno di vicinanza Alla nostra associazione In segno di servizio Ed anche una finalità Di fundraising Perché il pranzo Nasceva come Mezzo per Diciamo Finanziare alcune attività La Villa del Bianco Quindi è un momento Di festa È un momento Di finanziamento È un momento Di incontro Con le autorità Ed è un momento Di gioia Per stare insieme Con i nostri ragazzi C'è un rapporto profondo Tra la comunità riminese E Rimini Autismo Una realtà Che si è fatta conoscere Nel corso Di vent'anni di vita Pochi anni fa Abbiamo anche riconosciuto Il Sigismondo d'Oro La massima onoreficenza A Rimini Autismo E devo dire Che il lavoro fatto In questi anni È importante Insieme alle istituzioni Insieme al Comune Insieme all'Asl Rimini Autismo È un pezzo fondamentale Della tenuta Della nostra comunità Le risposte Che sono state date Sono importanti Ci sono tante Progettualità in corso Sono certo Che faremo Un bel lavoro insieme Mi fa molto piacere Poter essere utile In una giornata Come questa Insieme agli altri Amministratori È un momento Molto importante Per esserci Ma anche per capire Come queste associazioni Rappresentano davvero Il cuore Della nostra comunità E sono davvero felice Ringrazio Rimini Autismo Ringrazio il Palapertini Ma ringrazio davvero Tutte le famiglie Che sono qua A testimoniare Che ci siamo La vestaglia di Greta Garbo In mostra Il Grand Hotel Di Rimini Grazie a Giuliana Cella Quindi il Grand Hotel Di Rimini Espone la vestaglia Di Greta Garbo Proprio per gentile Concessione della creatrice Giuliana Cella Il Cimelio Sarà in mostra Nella hall Del Grand Hotel La sera Del 26 novembre Dalle 18 e 30 Il capo È un kimono di cotone Con stampa stelle marine Su fondo bianco Fu dimenticato Dall'attrice Insieme a un paio Di espadrillas Numero 43 Protagonista Del jet set internazionale Giuliana Cella È una tipica Creatrice Antiquaria Collezionista Che negli anni 90 Si è imposta Nel gota della moda Tagliando in fogge Occidentali Le sue rarità Tessili Collezionate Durante una vita In giro Per il mondo Quindi insomma Per chi è curioso E chi vorrà vedere Questo kimono Indossato Da Greta Garbo Può andare Al Grand Hotel Di Rimini Lo ripetiamo La sera Del 26 Di novembre Alle 18 e 30 Adesso andiamo avanti Con le previsioni meteo Per oggi Per questo lunedì 25 novembre Vediamo prima Lo stato generale Da nuvoloso A irregolarmente nuvoloso Sul settore centro-occidentale Sereno poco nuvoloso Sulle province orientali Tendenza ad aumento Della nuvolosità Su tutto il territorio Nel corso della serata Le temperature Massime comprese Tra 8 e 13 gradi I venti deboli Moderati Sud occidentale Sui rilievi Deboli variabili In pianura E mare poco mosso Comunque una giornata Senza precipitazioni A vedere qui E andiamo a vedere Il dettaglio Su Rimini La mattinata È stata abbastanza soleggiata Nel pomeriggio Arriverà qualche foschia In collina E sui rilievi Che ci accompagneranno Poi fino a sera Anche sulla costa Il sole oggi è sorto Alle 7 e 18 Tramonterà Alle 16 e 33 È davvero tutto Per questa edizione Di Icaro Tg Pomericci Vi rimando Ai telegiornali Serali Alle edizioni Delle 19 e 15 E la replica Alle 20 e 15 Intanto Restate sempre aggiornati Sul nostro sito Newsrimini.it E sulle frequenze Di Radio Icaro Sui 92 FM E potete anche Vedere e rivedere Tutti i nostri programmi E questo telegiornale Sulla nostra app Icaro Play Buon proseguimento Di giornata Grazie a tutti i nostri Grazie a tutti i nostri